Su 305 comuni abruzzesi, meno della metà, cioè 139, hanno superato il 65% di raccolta differenziata che è l'obiettivo minimo previsto dalla legge, ma soprattutto tra i 139 non figurano comuni importanti dal punto di vista demografico come Pescara, L'Aquila, Montesilvano, Suduona e Città Sant'Angelo. Questa è in estrema sintesi la fotografia del 2016 della raccolta differenziata in Abruzzo che comunque fa segnare una crescita del 3,4% rispetto al 2015, attestandosi a quota 52,70%. Bene la raccolta dell'organico sopra la media nazionale, così come quella della carta. Nei comuni che restano al palo sotto il 35% pesa la mancata implementazione del porta a porta anche se in alcuni municipi, vedi Montesilvano, si sta organizzando proprio in questi mesi estivi. Tra le punte di diamante nei comuni grandi Giulianova con il 70% di differenziata, tra i piccoli Casteldieri in provincia di L'Aquila con oltre il 90% di rifiuto differenziato raccolto. Il dato che noi abbiamo rappresentato e preso già dall'osservatorio in questi primi quattro mesi del 2017, ancorché parziale, è un dato che comunque ci induce a proseguire sulla strada di intraprese perché dimostra ulteriormente come la crescita si confermi e quindi se per esempio al di sopra dei 20.000 abitanti non ci saranno solo più città come Giulianova con il 70% di raccolta differenziata, Roseto con il 69%, Avezzano con il 67%, ma si inizierà a parlare anche di centri dalla diffusa densità abitativa e questo dato continuerà a crescere ulteriormente. Dobbiamo fare di più, dicono dal Dipartimento Rifiuti della Regione. Solo 7 dei 50 comuni finanziati per l'implementazione dei centri del riuso hanno terminato il liter burocratico. C'è di tempo altri 30 giorni, poi i fondi non utilizzati saranno rimodulati anche per l'avvio della tariffa puntuale per premiare, cioè chi ricicla più e meglio. L'Abruzzo sconta un ritardo sull'impiantistica che la Regione sta cercando di colmare, si è detto in conferenza stampa, anche per scongiurare l'inceneritore previsto dal Governo e per spingere sull'economia circolare.